Buongiorno a tutti, come vi ho prometto oggi racconterò come fare registrazione sulla nostra piattaforma. Ci sono due varianti, primo lasciare richieste sul nostro sito oppure contattare con il manager personale. Se l'advertiser vuole lanciare sul programma di affiliazione, noi proponiamo modello preferibile della collaborazione adatto ai scopi di advertiser e anche ai risultati quali vogliamo ottenere sia per admità sia per inserzionista. Tutta questa informazione noi compiliamo nel deal template. Sul schermo voi potete vedere questo documento. Nel deal template noi indichiamo il modello preferibile della collaborazione. Per esempio, nel campo target action type noi indichiamo il modello secondo quale possiamo collaborare. Può essere CPS oppure CPL, se l'advertiser vuole pagare per la vendita già effettuata oppure per un lead approvato. Nel campo partner rate indichiamo commissioni quale advertiser vuole pagare per i suoi affiliati. Per esempio commissioni medie nel settore di finanza è dal 2 euro fino alle 12 euro. Nel moda più di 10%. Nel settore di tecnica queste commissioni sono 5-7%. Nel settore di travel è 3-5%. Nel cookie time noi indichiamo tempo durante quale azione appartiene ai publisher. Nel campo hold time noi invece indichiamo quantità del tempo che serve per advertiser per fare verificazione di questa vendita. Nel geo noi scriviamo tutti i paesi dove vogliamo fare promozione. Per esempio può essere programma worldwide oppure per paesi definiti. Nel deal template noi indichiamo fonti di traffico permessi. Una cosa importante è coinvolgere la quantità massima dei publisher in questo processo. Perciò meglio permettere tutti i fonti di traffico possibili. Le più principali fonti di traffico sono cashback, codici sconti, SEM e anche pubblicità sui social. Taktak pixel tracking code nel linguaggio javascript, il codice che verrà pubblicato su tutte le pagine del sito di inserzionista. Il fine dell'ultimo di questo codice è rintracciare se la vendita è stata effettuata e la quale fonte proveniva il soggetto. Nel senso che dobbiamo capire a quale publisher appartiene questo ordine. Per prima cosa Taktak registra informazione sul sito di inserzionista e invia i dati raccolti sulla statistica di Admitad. Postback, a differenza di tracking code che si attiva sul sito di inserzionista, Postback richiesta è quando Advertiser invia informazione dal suo server. Possiamo mettere diverse impostazioni e ricevere informazione dell'ordine effettuato dopo effettuazione oppure con qualche ritardo. Admitad carica tutta informazione nella propria statistica. API, interfaccia programmatica dell'applicazione. Con parole povere è un programma fatta per un fine precise. Quando Advertiser ci comunica che ha il suo API significa che ha il suo modo di rintracciare, caricare e inviare informazioni. Questa integrazione è molto individuale perché le istruzioni differiscono da Advertiser a Advertiser. Anche questo Advertiser può lavorare direttamente con qualsiasi publisher oppure con un programma di affiliazione. Qui Advertiser a fornirci noi le istruzioni necessarie da integrarsi. Il secondo passo è il contratto. Nel contratto noi indichiamo tutti i punti del deal template. Ci sono due varianti del contratto. Contratto standard e contratto esclusivo. Nel caso del contratto esclusivo noi facciamo promo tramite i nostri affiliati. Noi siamo partner affidabili, perciò indichiamo tutti i punti nel contratto. Admitate anche la tecnologia che permette lavorare con qualche network allo stesso tempo e fare tracciamento a modo corretto. Dopo di questo passiamo all'integrazione. Vorrei sottolineare che abbiamo un strumento di deduplicazione che dimostra a quale risorse appartiene l'ordine. Anche due strumenti necessari sono cross device e cross browser, quali aiutano a registrare l'ordine effettuato dai diversi browser e anche dai diversi devices. Loro possono aumentare il tracciamento dei ordini da 5-10%. I nostri tecnici sono disponibili ad aiutarvi in ogni fase del processo. Loro invieranno istruzione con tutti i passi di integrazione. Qualora ci fossero domande possiamo fissare Skype call e dare supporto online. Quando l'inserzionista finisce l'integrazione, i nostri tecnici cominciano a fare i test. Dopo di questo è possibile lanciare campagna CPA. Prima del lancio noi carichiamo tutti i banner landing page sulla nostra piattaforma, così tutti gli affiliati hanno accesso sui materiali promo e possono usare questi materiali nella promozione dei prodotti di advertiser. Facciamo una promo interna quando lanciamo campagna CPA per inserzionista, così tutti gli affiliati che hanno il traffico per inserzionista possono fare promozioni. Ogni publisher ha il suo manager personale che sfrutta la sua attività e potenzialità alla massima. Sulla nostra piattaforma abbiamo diversi rapporti per analizzare il traffico. Per esempio abbiamo rapporti temporali per analizzare vendite giorno per giorno, dopo per azione con informazioni dei transazioni. Per publisher possiamo analizzare ogni publisher. Per spazio pubblicitario, per banner, per landing page, per canale. Possiamo raccogliere tutti i publisher nel un canale e dopo analizzare le loro attività. Advertiser ha accesso su tutti questi rapporti e può analizzare il traffico da solo. Per tutte le feste come Cyber Monday, 11.11, Black Friday, Halloween, noi facciamo promo particolari che aiutano a aumentare le vendite a volte. Anche vorrei sottolineare che ogni advertiser può trovare la lista dei publisher desiderati sulla nostra piattaforma, perché tutti i publisher importanti lavorano con noi. Vi ringrazio per il tempo dedicato e auguro una buona giornata. Spero che questo webinar sia stato utile per voi.